con cui sarete attaccati al pilota tandem tramite quattro agganci, due alti e due passi. Si parte, più o meno saranno 15 minuti per raggiungere i 4000 metri, ci salta, facciamo 50 secondi in caduta libera, vale a dire a 200-220 km orari. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!